Anticipazioni Don Matteo 11, trama della sesta appuntata del 22 febbraio 2018 Giovedì 22 febbraio verrà trasmesso il sesto appuntamento della storica Ficcio Rai Bene ritrovati con il consueto appuntamento dedicato a Don Matteo 11, la serie televisiva prodotta da LuxVive composta da 18 puntate Dopo la lunga pausa dovuta alla messa in onda del Festival di Sanremo, ritornano gli episodi inediti dalla seguitissima Ficzione Le settimane scorse, quest'ultima ha ottenuto degli ottimi risultati dal punto di vista degli ascolti Con uno share, che ha superato il 28% e più di 8 milioni di telespettatori Quali sono i segreti di questo grande successo? A quanto pare, tra gli elementi più graditi c'è la semplicità della trama Che rende la serie adatta ad ogni fascia d'età e soprattutto l'affetto verso il protagonista Terencelle Ma cosa accadrà giovedì prossimo? Nei paragrafi successivi troverete un breve riassunto di quello che è avvenuto precedentemente e la trama del sesto appuntamento Don Matteo 11 minuti, ecco dove eravamo rimasti Negli episodi passati di Don Matteo 11 è venuto a gala un segreto, che Sofia nascondeva da molto tempo Per fortuna la ragazzina è riuscita ad uscire da una brutta situazione, grazie alla presenza di Seba, un adolescente della sua stessa età Nel frattempo il prete di Spoleto e alcuni suoi fedeli si sono recati in un monastero ma li hanno fatto una macabra scoperta Hanno trovato il corpo di un uomo senza vita Ovviamente il parroco si è messo ad indagare con i carabinieri insieme e sono venuti a conoscenza di un'altra triste vicenda Trama degli episodi numero 11 e 12 della Ficzione di Rai 1 Giovedì prossimo, 22 febbraio 2018, i telespettatori assisteranno ad altri due episodi, 11 gradi e 12 gradi, della Ficzione di Rai Giovanni, l'ex fidanzato del capitano Anna, sarà intento a prendere i voti per farsi sacerdote L'uomo porterà fino alla fine la sua clamorosa decisione? Nel frattempo, la Olivieri, che è ancora follemente innamorata di quest'ultimo inizierà a titubare Per quale motivo? La militare si troverà davanti un altro uomo, che le sconvolgerà la vita Don Matteo, intanto, sarà occupato con un nuovo caso d'omicidio In più, il parroco sarà occupato a prendersi cura di coloro che si trovano in grandi difficoltà Infine, il rapporto tra Seba e Sofia avrà una svolta in attesa I due ragazzi, dopo essersi scambiato un timido bacio, si renderanno conto di provare qualcosa di forte l'uno per l'altra Per conoscere altre informazioni e anticipazioni sulla popolare serie Don Matteo 11, continuate a seguire il sito Blasting News Grazie a tutti